Un nuovo aggiornamento per l'app DJM REC di Pioneer DJ che arriva alla 1.5. Amici, un nuovo aggiornamento per l'app DJM REC per tutti coloro che la utilizzano ma anche quelli che sono interessati per la registrazione, lo streaming e quant'altro che aggiunge un bel po' di cosette. Andiamo a vedere che cosa c'è di interessante. Pioneer DJ ha appena rilasciato questo aggiornamento per iOS e iPadOS per lo streaming e la registrazione dal vivo per i DJ. L'aggiornamento per DJM REC 1.5 adesso è disponibile. Questa app disponibile purtroppo solamente per il mondo Apple trasmette in live streaming su varie piattaforme di social media e visualizza contemporaneamente le informazioni sui brani che stai riproducendo. Come vedete abbiamo rilasciato un aggiornamento alla nostra applicazione DJM REC che ti consente il live streaming su diverse piattaforme di social media. DJM REC è un'applicazione per DJ che consente di registrare e condividere facilmente i mix per autopromuoversi facilmente a un pubblico globale grazie al collegamento ai mixer DJ di Alfa Teta tramite un cavo USB. Può essere scaricata gratuitamente dall'App Store e provare le funzioni a pagamento per 30 giorni. Dove la si scarica? Qua App Store Preview ecco qua il link che vi metterò in descrizione. Funzionalità di streaming live di alta qualità. DJM REC ha ora una funzione di streaming live nell'app rendendo facile trasmettere in diretta con alta qualità su varie piattaforme di social media. Vedremo nello specifico quali. Collega il tuo iPhone o iPad tramite un singolo cavo USB a mixer DJ compatibile con i terminali send e return e seleziona la piattaforma di streaming live da DJM REC. Per iniziare a trasmettere ora puoi fare streaming su Mixcloud Live e Restream così come su Twitch, YouTube, Facebook Live, Instagram, Snapchat e altre piattaforme. Verifica le condizioni del supporto per il live streaming di ciascun servizio. Quindi aggiunto come vediamo anche nelle icone oltre a Mixcloud, Facebook, Twitch, Snapchat, Instagram insomma molte App che fanno ingolosire molti utenti. Visualizzazioni di informazioni sui brani riprodotti durante lo streaming. Quindi collegando il CDJ 3000 con il DJM A9, il DJM V10 o il DJM V10 LF ora puoi visualizzare il nome del brano e dell'artista attualmente in riproduzione durante il live streaming in modo che il pubblico possa vederlo in tempo reale. Collegandoti semplicemente a DJM REC senza bisogno di altre applicazioni potrai incorporare facilmente le informazioni sui brani nel live streaming approfondendo ulteriormente la connessione con il pubblico e migliorando l'esperienza del live streaming. Registrazione facile di alta qualità del mix DJ puoi registrare facilmente in alta qualità collegando il tuo iPhone iPad a un mixer DJ compatibile con un unico cavo USB e l'app DJM REC controlla il limitatore di picco nel mixer DJ per ridurre al minimo il clipping e la distorsione digitale consentendoti di acquisire mixer registrazioni analogiche in alta qualità. Se il tuo mixer DJ non è direttamente compatibile con l'applicazione puoi collegare un'interfaccia audio e un microfono per la registrazione allo stream dal vivo. È facile sintonizzare l'audio registrato per creare un suono da discoteca grazie all'elaborazione della pressione sonora e la regolazione dei bassi nell'app e poi facilmente condividere le registrazioni su servizi come Mixcloud Soundcloud senza doverle elaborare o modificare in un software DAW. Ancora meglio quando combini CDJ3000 o i mixer che abbiamo detto e lo colleghi a DJM REC viene automaticamente creato un elenco di brani con i nomi dei brani e degli artisti presenti nei dati registrati che ti permette una gestione efficiente dei mix. Una postilla aggiorna il tuo mixer DJ o il lettore DJ compatibile al firmware più recenti i mixer compatibili sono elencati di seguito. DJM A9, DJM V10, DJM V10 LF, DJM Tour 1, DJM 900 Nexus 2, DJM 750 MK2 e DJM 4 e 50. Ricordiamo che DJM REC è disponibile nelle app store a prezzo di 10 euro 10 e 99 a poi provare gratuitamente scaricandola gratuitamente per 30 giorni con accesso completo a tutte le funzioni. I mix registrati durante questo periodo rimarranno disponibili da ascoltare e condividere anche a prova finita. Ecco qua tutte le caratteristiche chiave che ti possono interessare per questa app che vi ho anche elencato. Un po' di video e immagini su quello che troverete sull'app qua dove regolare un po' il suono. Tutte le registrazioni per elenco che possono essere editate o cancellate. L'elenco delle condivisioni sulle varie piattaforme Twitch, YouTube, Facebook Live, Instagram, Snapchat, Mixcloud Live, Restream oppure Custom per personalizzarla. E qua la forma d'onda con i picchi di registrazione in wave a 48.000 kHz e la pagina della condivisione del file su Mixcloud, Soundcloud, Dropbox o altro. Bene queste le novità della 1.5 per DJM REC di Pioneer DJ fateci sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare online tutto con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social. Corsi indirizzati per chi inizia da zero, per chi è già bravo e vuole migliorarsi e per chi vuole fare il salto di qualità verso il professionismo. Consulenze su tutti gli argomenti trattati hardware software ma anche tutte le tematiche legali legate al suonare in regola. Oltre a Facebook e Instagram c'è il nostro TikTok vai seguici e anche la nostra community Telegram se vuoi farne parte tutto gratis. Il nostro canale YouTube se vuoi farne parte e iscriverti ecco qua puoi cliccare qui è tutto facile, tutto gratis e puoi avere a disposizione tantissimi video di tutto il mondo che ti interessa quindi solo DJ e produzione musicale ma puoi anche valutare l'abbonamento per avere una corsia preferenziale. Ma ci sono anche le official merchandising e tutto l'abbigliamento di SOS4DJ con la linea Anyway. Puoi essere informato su tutto quello che accade sul canale in anteprima cliccando la campanella puoi mettere un mi piace o condividere se vuoi con i tuoi amici ci puoi aiutare tramite il tasto sostieni SOS4DJ qui o tramite super grazie qua sotto dove vedi il cuore e sarai uno dei nostri. Benissimo DJM REC va avanti si aggiorna ottimo all'interazione con tutte queste piattaforme sul quale streamare e fare il vostro live per divertirvi ma anche per autopromuovervi. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti sempre importantissima e fondamentale così come la vostra iscrizione al canale mi raccomando. Da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto una bellissima giornata ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Piri piiri pii Piri pii pii Piri pii pii Grazie a tutti